Hello guys, oggi come sfidanti vi porto Nick Walker e Dennis Wolf Nick Walker è un bodybuilder molto giovane, ha vinto la sua Pro Card circa 2-3 mesi fa all'età di 24-25 anni circa, quindi è un bodybuilder molto giovane ma che sta già facendo grandi numeri, con un'ottima qualità muscolare non a caso è detto il mutante, perché è enorme, cazzo contro Dennis Wolf Dennis Wolf è uno dei miei bodybuilder preferiti e credo che abbia potuto come si dice Dennis Wolf è uno dei miei bodybuilder preferiti perché ha un'ottima simmetria e in alcune pose è veramente fenomenale quindi ho detto, beh, vediamo come se la cava Nick Walker contro Dennis Wolf e oggi lo scopriremo Prima posa, frontable bicep e qui entrambi hanno una cosa che va al loro sfavore entrambi hanno un tronco molto grande Nick Walker tenta una sorta di vacuum e in questo modo allarga ancora di più il tronco non credo sia una cosa buona però entrambi tengono molto bene lo stomaco hanno un ottimo controllo tengono bene l'addome Dennis Wolf ha mio Dio, delle gambe incredibili porca miseria sono enormi e ha un'ottima separazione muscolare nelle gambe mio Dio anche se nel front double bicep ha delle gambe incredibili stessa cosa per Nick Walker Nick Walker mi sembra che abbia no, ha sicuramente delle braccia più grandi i dorsali di Sintra vedono bene ha delle spalle molto rotonde avambracci enormi ha degli ottimi avambracci Nick Walker Dennis Wolf ha un tronco molto grande quindi una cosa a suo sfavore delle braccia non fenomenali il braccio destro mi sembra più piccolo rispetto al sinistro cioè il bicipite destro è più grande di quello sinistro ma il tricipite destro è più piccolo di quello sinistro quindi molto asimmetrico in questa posa quindi il primo punto lo darei a Nick Walker perché questa è credo sia la posa caratteristica di Nick Walker è la sua posa migliore è la sua posa migliore credo prossima posa Frond Latsbred e Nick scusate Dennis Wolf ha una V-taper incredibile ha una vita strettissima e vanno ad allargarsi le spalle quindi ottima V-taper Nick Walker non può dire la stessa cosa questa è la sua peggiore posa in assoluto è terribile mio Dio delle spalle molto piccole e non si aprono del tutto non sono molto rotondi dorsali che non si intravedono minimamente ha un pettorale che è molto grande però non riesce a diciamo a contrarlo ecco le braccia sono molto grandi e anche le gambe sono molto buone guardate le vene la vascolilizzazione come cazzo si dice nei polpacci e delle vene enormi non a caso è detto il mutante però io a questo punto lo darei sicuramente a Dennis Wolf Dennis Wolf ha una Front Latsbred incredibile mio Dio è una V-taper incredibile i dorsali si allargano completamente Dennis Wolf è una delle migliori Front Latsbred della storia prossima posa Side Chest e anche qui è veramente molto dura entrambi peccano di definizione nei glutei hanno una scarsa definizione nei glutei Dennis Wolf non ha delle braccia enormi invece Nick Walker ha delle braccia molto grosse e anche degli avambracci enormi la sua spalla è molto rotonda pettorale mi sembra sicuramente più rotondo di Dennis Wolf però mi sembra più piccolo io qui darei il punto a Nick Walker perché Nick Walker mi sembra in una condizione migliore e pettorale mi sembra più in pump diciamo Dennis Wolf non 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 si lasciano intravedere molto le fibre le fibre muscolari nel pettorale quindi Nick Walker si prende il punto per le side chest prossima posa side tricep e anche questo è molto difficile non riesco a capire molto bene la forma che abbia il tricipite di Dennis Wolf ma a naso a naso mi sembrerebbe migliore quello di Nick Walker ha un ottimo tricipite ottima separazione muscolare probabilmente anche in una condizione migliore Dennis Wolf non riesco a capire che forma ha il suo tricipite però comunque mi sembra buono ma credo che Nick Walker sia superiore quindi Nick Walker si prende il punto per il side tricep prossima posa back double bicep qui dico subito una cosa i glutei di Dennis Wolf sono orribili ha dei glutei orribili cosa opposta invece per i femorali ha dei femorali buonissimi incredibili allora di schiena mancherebbe un po' più di simmetria nel lower back mancherebbe un po' più di simmetria nel lower back e un po' più di densità sempre nel lower back le spalle e le braccia sono ottime Nick Walker invece ha una buona definizione nei glutei non si intravede tanto le fibre al culo perché con il tan ha usato un tan molto molto scuro e quindi non si capisce bene e femorali non granché polpacci ottimi di schiena è molto buona ha una buona densità muscolare anche nel lower back guardate i suoi bicipiti come sono a punta quindi il punto qui lo darei a Nick Walker prossima posa back lat spread qui non la migliore delle pose per Nick Walker gli manca una della densità nel lower back e nel centroschiena completamente nel lower back e nel centroschiena è completamente quasi completamente inesistente anche i trapezzi sono buoni però Ian Drive su Dennis Wolf Dennis Wolf ha un'ottima separazione muscolare un lower back migliore trapezzi buoni ottima anche la densità quindi io il punto lo darei a Dennis Wolf prossima posa Eps and Thai e guardate l'incredibile separazione muscolare di Dennis Wolf nel quadricipite i suoi addominali sono buoni sono molto tagliati a dettagli profondi ha un'ottima condizione Nick Walker anche ha dettagli ben profondi la cosciata si buona ma non incredibile ripeto le vene ha delle vene che fanno veramente schifo nei polpacci non a caso ho detto il mutante Nick Walker ha una vita abbastanza larga i suoi addominali c'è noto soprattutto uno che è più grosso di tutti gli altri c'è manca un po' di simmetria negli addominali ha un un addominale che è più grosso degli altri quindi io il punto qui lo darei a Dennis Wolf ma ripeto queste qui sono due pose molto soggettive ditemi la vostra chi preferite tra Dennis Wolf e Nick Walker nell'absenta io preferisco onestamente Dennis Wolf prossima pose most muscular qui anche questa una delle migliori pose per Nick Walker ha un'ottima condizione un buon mindset spalle molto rotondi anche le braccia ripeto sono entrambi in un'ottima condizione ma in questa pose mi sembra più in buona condizione Nick Walker Dennis Wolf non tiene molto bene l'addome le gambe ripeto sono ottime non ha da dire però le spalle sono poco rotonde e si aprono si aprono poco poi è in una buona condizione ma Nick Walker mi sembra in una migliore condizione quindi con il punteggio di 3 a 5 Nick Walker batte Dennis Wolf Nick Walker è un bodybuilder che ha una carriera e un futuro veramente prosperoso secondo me potrà lottare anche per il titolo di Mr. Olympia tra qualche anno perché ha solo 24-25 anni quindi ha un futuro da campione questo ragazzo qui io gli auguro il meglio è stato come 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 prima gara da professionista a Chicago Pro quarto posto dove è arrivato è un ottimo risultato considerando anche che il livello della gara era molto molto alto quindi il quarto posto ci può anche stare nel 2021 probabilmente lo vedremo qualificato all'Olympia a mio avviso il video è finito scrivetemi nei commenti quali altri sfidanti vorreste vedere ciao